Io amo la natura. Io amo la montagna. Vorrei che tutti potessero viverla. Per questo Polar TV sostiene il progetto Battito delle Orobie, che permette ai ragazzi disabili di vivere la montagna attraverso percorsi escursionistico-musicali. L'obiettivo è raggiungere 2650 euro per acquistare zaini, ciaspole e tutta l'attrezzatura necessaria. Aiutiamoli a sentire il Battito delle Orobie. Grazie a tutti.